Buongiorno cari amici della Maratona Veneta, la parola di Anko è una parola veramente difficile, mare e lingua, la lingua mare, cosa sia la lingua mare? è una parola che diciamo tante volte magari, che la pensiamo, che la doparemo, ma cosa sia che la vuol dire? vabbè, io puramente denotativo vuol dire lingua della mare, quindi della nostra mare, madrelingua, mother tongue in altre lingue, in inglese, ecco. Ma cosa sia marelingua? Qual è la nostra marelingua? E ora siamo portati da questa nostra società omologante a pensare che la marelingua la sia la lingua ufficiale del Stato, no? Siamo tutti quanti, per chi che è una città di italiano, siamo tutti italiani, la mia marelingua sarà l'italiana. Siamo tutti quanti, per i nostri amici veneti in Brasile, siamo tutti quanti di passaporto brasiliano, siamo cittadini brasiliani, la mia lingua mare è portoghese e brasiliana. E cosa là, forse parlando di portoghese, è uno che vi viene in mente un dubbio. Ma se mi vi disesse che il concetto di marelingua non è un concetto sociale, socio-linguistico, ma non è un concetto neurolinguistico. La marelingua, per me serve, per il nostro serve, è la lingua che abbiamo imparato, per definizione, prima di venire alfabetizzato. La conseguenza mia, qual è la lingua mare? La lingua che vi imparato, dai 0 ai qualche lunedì dice 5, 6, 7. Mettiamo l'ipotesi più restrittiva entro i 5 anni. Di conseguenza la lingua mare è quello che vi imparato senza sapere né leggere né scrivere. Quindi senza letteratura, senza l'aspetto scientifico e tutte queste storie qua. Questa è la mia lingua mare. Questa è la lingua che mi serve, è la strutturale sulle sinapse che creano i neuroni, più fondamentali di questa, non che sia. Anche all'apprendimento delle altre lingue che viene dopo, e sarà influenzata da quella che ha la mia marelingua, ma soprattutto dal rapporto che ho con la mia marelingua. Se quando che mi a questa età qua vado a scuola e mi viene insegnata una lingua completamente differente da quella che mi vuoi imparare a casa, è la mia casa comunque, perché mi casa, ma fortuna, la mia mamma, la mia papà e i miei nonni, e i parenti, mi sono dell'88, insomma, non si è capito di 100 anni. E mi ha sempre parlato in Veneto, le conseguenze da me, marelingua, da sé, il Veneto. In termini specifici, a variante, come se ne ormai per tutti. Ma qua, con la scuola, mi dice che la nostra lingua è l'italiano. Vabbè, imparo senza problemi, dopo un certo punto mi dice anche che, siccome siamo europei, i cittadini del mondo, e ora dobbiamo imparare anche l'inglese. Va bene, nessun problema. Dopo, a un certo punto, de me volontà, va bene, in me caso sono anche il latino, dopo, de me volontà che ho voluto studiare francese, todesco e un fiato portoghese, beh, ormai sono meglio il portoghese che il poco che so del todesco, ma insomma, tutte queste lingue qua, non posso dire che questa è marelingua. Allora, cosa si chiama marelingua? Questa è quella che ho imparato, quella che mi serve e che ha fatto tutti gli sforzi possibili per imparare. E il mio serve, questa è qui, sa la lingua, che è la mia marelingua. Magari che ne sa anche dove, perché l'italiano mi arriva dentro casa con la televisione. Ecco, va bene, perfetto, posso dire che ho acquisito una competenza passiva anche nell'italiano, ma la lingua, grazie alla televisione. che l'italiano che sia, non si sa, ma non importa, comunque è miseria. Siamo solo un marelingua bilingue, una lingua e mezzo. Ecco, tutto quello che viene dopo è la lingua della società. Però, qua che sia un problema, qua, che ne torneremmo comunque questo discorso qua, perché adesso su un video solo non si riesce ad esaurirlo, ma vorrei ammettere un attimo il quadro del ragionamento. Se sta qua la sia la mia lingua mare, quella che non si riesce ad esaurirlo prima di andare a scuola. E dopo non la studio più, ecco, questo è un problema, abbiamo un rapporto un po' strambo, perché alla fine non voglio mai formare l'apprendimento di quella lingua che per prima il mio serveio ha imparato. Il nostro serveio l'è fatto per imparare le lingue, il nostro serveio si forma tramite il linguaggio. E se fa, se tu non ti parli, non ti comunichi, non ti sviluppi certe cognizioni, se non ti vieni fuori, se non ti crei la parola, se non ti doppi la parola, non si struttura certi consigli in tua testa. bene, ma se quando io andavo a scuola, mi dice che una di queste lingue qua, notabilmente nel nostro caso, mi dice l'italiano. Questa è la mia vera mare lingua. Questa è la vera mare lingua, perché questa qua non è mia mare lingua, perché questa qua non è mia lingua. Questa è come dire che l'italiano viene presentato, non come una lingua che giustamente voglio imparare, perché è la lingua anche se è mia lingua mare, resta lì al Veneto. Ok, e ora, dita cusita, sta qua, aveventa una lingua, non so che sia un consetto duro, però lo dico, secondo me, aveventa una lingua maregna, matrigna in italiano. Cosa sei una lingua maregna? Che rapporto se puoi avere, perché visto che si chiama madre lingua è un rapporto di relazione, un rapporto di lingua, no? E ora, il Veneto si chiama madre lingua. Posso dire che l'inglese è la mia lingua coega, perché lavoro con l'inglese, no? O il portoghese è una lingua amica, non è mia una lingua mare, per me è una lingua amica, perché con certi amici l'adopero come in amicizia, no? Perfetto. L'italiano però non viene presentato solo come una lingua coega, una lingua di lavoro, una lingua di istituzione, e ne viene presentata, per risulta, come la nostra vera lingua mare. In tanti casi, tante persone lo sanno, anche della mia età, specialmente più giovane, ma la maggioranza delle persone in Italia non lo sanno, la mare lingua. E' una lingua che è la FSE, che la SE presenta come lingua amare, anche se non lo sanno. In sostanza è la lingua maregna, la lingua matrigna in italiano. E se puoi avere due tipi di rapporti con la lingua, con la matrigna. Un rapporto conflittuale o un rapporto, diciamo, convergente, un rapporto sereno. Da cosa sei che deriva un rapporto conflittuale con la matrigna? Parliamo proprio di un rapporto familiare. Beh, di sicuro, se la maregna, in questo caso la lingua italiana, la me dice, che me mare è il vento, e non è buona da niente, non ha conto da niente, oppure non la esiste, non ha mai esistito a me la dover amare, questa qua non ha mai esistito. E se esistito, è una buona da niente, è una contadina, è ignorante. E se no, addirittura che la fa danni, che crea confusione, che fa casino, che bisogna sbandonarla. Ecco, per quanto è buona da niente che possa essere questa lingua qua, comunque è la lingua del tuo cervello. E se tu ti ignori questa cosa qua, ti consiglio di offendere il tuo cervello. Cosa c'è che succederà? Succederà che quando che ti, te neghi, te hai scoia, e si cominci a dirte questa roba qua, non ti ha maniera buona, come dire, ti aiuto un camì, ti ha detto mamma, ma un camì, ti aiuto. Beissima questa roba qua, strabea. Ma, invece, se c'è che ti dice no, sono mia dover amare. E no, questa qua. Cosa c'è che capita? Che quando che nemmo scoia, quando che un portai tosi scoia, che caso hai sentito questa roba qua, il Veneto, per neanche, se sei gli ampi, se sei gli anni avanti così. Cosa capita? Che, e, scominciamo a dirgli al nostro cervello, tutto il sforzo che ti hai fatto per cinque anni, da tutti i suoi, per imparare il Veneto, ecco, non ti ha servito a niente. I tuoi sforzi dell'apprendimento delle lingue di sé assolutamente vani, esso a base di questo ragionamento falso, di questa imposizione falsa, pretendemmo da qua in vanti, scoia, di insegnargli le lingue straniere. Che in Veneto si chiama lingue foreste, ed è questo interessante, che in Veneto, la picoretta la parola, si chiama lingue foreste, quei che vien da fora tutto quello che non sei male lingua, per il nostro cervello c'è la lingua foresta. La politica puoi dire quello che è a voi, ma la neurolinguistica la dice questo. Amare lingue, se potete imparare entro i cinque anni, quello che viene dopo, viene da fuori, c'è una lingua foresta. Se una delle lingue foreste la scommisse a tagliarsi a lingua mare, mi infora il disastro. Perché non solo ti gare un brutto rapporto con la tua lingua mare, ma ti gare anche un brutto rapporto con la lingua foresta che ha disegno di essere a tuo mare, e solo di tutto ti gare un pessimo rapporto con tutto l'apprendimento di ogni lingua. L'apprendimento di tutte le altre lingue passa per un rapporto sano con la propria lingua mare, come che, perdoniamo il parallelismo, il rapporto con le donne e il passa, fa un rapporto sano, sereno, possibilmente, anche con la propria mare. Adesso è così, mi tocca fare anche il psicologo, ma vabbè. Buon, l'abbiamo fatto anche a PONCO. A se vediamo domani. Ciao ciao.